Oggi Draghi ha incontrato Enrico Letta, il segretario del PD, il quale alla fine dell'incontro ha detto che non va bene il metodo Salvini. Ora, siccome lei è un ministro del governo Draghi, ci spiega qual è il metodo Salvini? Forse dovrebbe essere Enrico Letta a spiegare a cosa si riferiva. Naturalmente, lo sappiamo, le forze politiche hanno punti di vista diversi e il governo è chiamato a trovare delle sintesi, cosa che finora ha trovato. Naturalmente, questo proseguirà anche nei prossimi mesi, soprattutto quando si comincerà... Il metodo Salvini o il trovare una mediazione? La necessità di trovare una mediazione. E io credo in questa esperienza, che come lei sa è la mia seconda esperienza da ministro non parlamentare, trovo una fortissima coesione tra i ministri, in consiglio dei ministri, ma anche in termini bilaterali, perché tutti sentiamo l'esigenza di affrontare questa drammatica emergenza. In termini bilaterali? Nel senso di collaborazione tra ministri, tra singoli ministri. E quindi quando uno parla con i colleghi... Lei con il ministro Giorgetti va d'accordo per capirci. Certamente, ma anche con gli altri ministri. Ci sono ministri, credo, estremamente capaci e tutti spingiamo nella stessa direzione. Ecco, non mi scusi, ministro, interroppo solo un secondo per capire. Quindi lei ci sta dicendo che la Lega è affidabile anche quando Salvini da fuori attacca, non so, il governo sul coprefuoco o su altre cose? Io quello che sto dicendo è che il governo è impegnato in modo molto coeso. Dopodiché bisogna trovare i voti in Parlamento. Pensiamo ai vari decreti legge che sono stati realizzati e che verranno offerti al Parlamento per la discussione, pensiamo sulle riforme e lì le differenze tra i partiti emergeranno. Bisognerà trovare dei punti di sintesi. Ecco, ma ci potrebbero essere maggioranze variabili, perché appunto, lo ricordava lei adesso, è per implementare il recovery plan e le riforme collegate, è un'impresa titanica. Quindi potrebbero esserci maggioranze variabili? Finora i punti di sintesi sono stati trovati, i decreti sono stati convertiti e credo che questo sia un metodo, Draghi, se lo vuole chiamare così, e che spero proseguia anche nel prossimo futuro. Sei ottimista, Lina Palmerini? No, diciamo che...